Il Festival delle Arti Scenica torna e raddoppia. Arrivata infatti alla non edizione, la Kermess che racchiude teatro, circo, danza e musica si articolerà su due fine settimana. Novità assolute che quest'anno il Festival toccherà anche Scoglitte, precisamente domenica 14 maggio. Un Festival quindi pronta ad animare il centro storico cittadino, le sue piazze, le sue vie e i suoi splendidi palazzi in stile Liberty. Scenica arriva alla non edizione, un traguardo importantissimo, questo evento nato come piccolo esperimento nove anni fa e che adesso è diventato veramente una grossissima manifestazione attesa da tutto il bacino della provincia. Quest'anno si terrà dal 6 al 14 maggio quindi raddoppiamo i fine settimana, un doppio weekend pieno di spettacoli di teatro, circo, musica, danza e arti performative. Tantissimi spettacoli all'aperto per una formula che cambia, si ritrova e che quest'anno coinvolgerà anche la città di Scoglitti. Compagnie provenienti dall'Italia ma anche da tutta Europa, una compagnia brasiliana e ci sarà da divertirsi. Presentiamo Scenica con grandissima soddisfazione perché è un appuntamento ormai importante per la nostra città e che quest'anno non solo raddoppiamo in termini numerici perché si snoderà nell'arco di due weekend, un sabato e domenica e un venerdì sabato e domenica successivo con partenza il giorno 6 maggio ma per la prima volta sbarcherà Scoglitti. Abbiamo detto che vogliamo coinvolgere Scoglitti nelle manifestazioni più importanti che andremo ad organizzare ed ecco che iniziamo a mantenere la parola, Scenica sbarca Scoglitti per l'evento importante, evento conclusivo di tutta la manifestazione. Di questo ne siamo molto felici perché vogliamo che Vittoria torni a vivere, torni a avere nel panorama provinciale, non solo provinciale, il ruolo che merita. Lo stiamo facendo, è diventata veramente la capitale del divertimento e della movita e adesso vogliamo che diventi anche la capitale della cultura. Queste grandi manifestazioni partendo da grande Scenica e poi il Jazz Festival e poi l'estate ci permetteranno veramente di dare un'immagine diversa, nuova, fresca, vibrante della città.